Salve amici fratelli della congrega, come state? Come state trascorrendo queste pigre giornate nell'esservi a suoi fatti, a queste regole paradossali e sbagliate? Vi siete bevuti questa cazzata del covid-19? Non ricattate le persone, ma se tu avessi un parente in terapia intensiva o se tu stesso fossi ora ricoverato, non la penseresti così, la penserei ugualmente così. Scusate, io non sono imbevuto, ma vorrei bere. Chi mi sopporterà? Insomma, per reggere il cellulare, ecco, dobbiamo sorreggerci, no, sostenerci a vicenda. In questa dura battaglia, in questa sceneggiatura, a modi canovaccio, c'è uno scheletro allestito, chissà, forse da un nuovo ordine mondiale, imperiale, che, diciamo, propugna delle regole, in forma imperativa, dogmatica, a cui bisogna assolutamente attenersi, senza battere il ciglio, senza accigliarsi, senza innervosirsi, senza immalinconirci, ma ce non è possibile. E sorseggiando, su Carisma, da Gary Holman, dei tempi d'oro, o rinnovatosi, una splendida interpretazione meravigliosa in Mark David Fincher, allora, parlando con persone interessanti, che potrebbero anche sbagliarsi in merito al Covid, sicuramente la mia mente viene stimolata e riesce comunque a disarcionarsi da molte convinzioni a cui io stesso stavo per assuefarmi. Stavo soccombendo in questa ipocrisia, diciamo, allestitaci, arredattaci di noi, che dobbiamo rimanere redarguiti, espulsi, ammoniti, comunque guardati a vista e sorvegliati in maniera speciale da un potere che sta alla base, per l'appunto forse di quest'ordine mondiale. Ecco, il complottismo, negazionismo, essere possibilisti, discussioni chat su Messenger che aprono il pensiero o ti bloccano nella paranoia. Ma andate retta a quello lì, quel cantante Gali, quello che vuole stare sempre in good time e celebra la magnificazione delle sue ferite restauratesi, rimarginate, prorogate, così come questi emendamenti, decreti attaccatici, oramai addosso i stillatici, al fine di guadagnare più soldi. Questo Gali non è ciechevare, quindi non possiamo affidarci a lui per sperare in tempi migliori. Forse dobbiamo giocare di analogie col cinema, cioè ricordare che qualcuno vuole stingerci, incenerirci nella putredine e nell'addolcirci a una realtà illusoria, menzognera, ingannevole, capziosa e quindi sta lui complottando contro di noi o forse tutto sta architettando in quanto già meticolosamente studiato, una sceneggiatura in corso d'opera che cambia, evolve, involve a seconda della risposta del pubblico. Pagante, sicuramente non molto appagato in questo periodo, certamente plagiato. Io sono un pensatore libero, per questo vengo ancora emarginato in quanto invidiato, fui in passato tremendamente osteggiato, etichettato, quasi stigmatizzato, e a me le patenti più brutte furono affibbiate, ma io non voglio entrare in simbiosi con queste persone poco empatiche che mi giudicarono antipatico, a priori o aprioristicamente apriamo la mente. Allora, guardiamoci bene. Dopo aver letto un altro capitolo di mia recitazione per l'audiolibro Avvenire, cosa ci riserverà l'avvenire? L'avvenire? E qui è tutto un Made in Italy, spopolano in radio, alla tv, questi promo pubblicitari, questi trailer di fiction televisive, di filmetti made in Italy. Milano, capitale dei pret-à-porter, forse è Parigi, e sgarbi, è sgarbato nei confronti del governo Conte, da lui combattuto, da lui asperamente criticato, forse giustamente, però anche tutte queste news o fake news da lui vengono strumentalizzate perché è nell'opposizione schierato, quindi è logico che tutto ciò che potrebbe nuocere la salute del cittadino, che potrebbe rieleggere i 5 stelle, gioca a favore di chi, diciamo, faziosamente o politicamente contrapposto a chi ora ci sta ordinando di rimanere ordinati e sta le nostre vite disordinando secondo un ordine che sta generando soltanto scompensi psicologici e il caos entropico. Mettere ordine a una società forse impazzita che andava un po' rabbonita, sedata e placata nei suoi bollenti istinti, oramai troppo libertari, che potrebbero già infastidire o infastidirono chi comanda e chi legifera su la salute, non soltanto fisica, bensì anche psichica dei cittadini. Le quarantene, io ne sono esperto in quanto per essermi scatenato, ribellato, in quanto messo in catena da chi mi aveva malguardato, quindi giudicato e ottenebrato e miserito nelle mie potenzialità, in modo infervorato, contro queste persone mi scagliai, ma non mi sono rattristito, anzi sono forse ringiovanito sebbene un po' stempiato. Cerco sempre di aprire il pensiero e di non pensare che la vita sia soltanto il dover aprire le gambe di o a chi che sia cedere ai ricatti della chiesa e asciugarsi nella finta giustezza di una falsa borghesia che fa rima con ipocrisia per l'appunto e con malinconia, con ipocondria, perché le persone sono tutte lamentose, c'è sempre qualcosa che non va e si scagliano poi per appunto contro la società, ma in questo caso bisogna essere agguerriti. Diego Fusaro cosa fa? Il sapientone che vuole accrescere la sua popolarità da coglione o da uomo lungimirante, profetico, che dispensa perle, pillole di saggezza affinché possiamo svegliarci e collettivamente ribellarci, oppure sì insomma, sono discorsi confusionari, oppure che mettono confusione nelle persone facilmente ricattabili, vulnerabili psicologicamente, suggestionabili e facilmente, ripeto, impressionabili. Impressionante ciò che sta avvenendo e il silenzio mortifero di quest'Italia appianatasi nell'omertà più più raccapricciante, veramente era brevidente, era brevidente, nessuno dice niente. Aspettiamo, aspettiamo altre bugie che ci saranno riservate infimamente, ma continuiamo a elogiare le nostre vite appartate, segregate intimamente, a innalzare in gloria i valori autentici di una vita, ma quale è vita che non c'è più e la viltà la fa da padrona in questa società dove tutti vengono serviti al padrone. Il potere, il potere ombroso, un potere che forse scrisse il nostro destino e ci sta improntando in maniera meschina attraverso dialoghi, costruiti a tavolino, all'interno di questa balla colossale secondo la quale il 7 e l'8 entra in zona gialla però rafforzata. Cos'è questo rafforzativo? Che cosa sono queste imposizioni coatte? Guarda che se ti ribelli ti prescriveranno un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio, oppure se vorrai rivelare la verità sarai ridicolizzato, preso per coglione, inculato, ti daranno del matto, ti vorranno scheggiare nel coraggio, ti scherniranno, ti rideranno, oppure ti blandiranno pensando è poveretto, poveretto. Qui tutti ragioni in maniera egoista, cioè sono preoccupati del covid perché pensano di essere contaminati e che le loro vite potranno essere minate nella libertà quotidiana al momento diciamo affievolita. da queste regole ferre assurde, demenziali, dal cinema di Mel Brooks, misto alla fantascienza non più onirica, bensì tangibilmente vera e oscena. Tutta scena la mia? No. Gli sceni siete voi che continuate a sopportare questo clima teso, questo cinema scomparso, questa esistenza nostra cosparsa di menzogne che si stanno espandendo a macchia d'olio e i lockdown intanto ad libitum vengono reiterati, si riverberano e continuano infinitamente. Questo continuum, spazio temporale del nostro tempo, bloccato, paralizzato, strozzato e ridimensionato, perlomeno iscritto in una dimensione atemporale in cui si è precipitata addosso questa tragedia di proporzioni universali. Blade Runner, Ridley Scott e adesso anche Codice Unlocked con Michael Douglas anticipava il Covid. Disaminiamo tutto il del passato che anticipò genialmente il futuro qui presente e ancora chissà di science fiction avveniristica, nell'avvenire di altre disposizioni che ci ottenebreranno nelle indisposizioni. Il terrorismo, terrorismo. I controlli fittizi che vengono esercitati da un potere che c'è, è invisibile, che si fa vedere, si fa sentire, che indelebilmente, progressivamente, lentamente, ma tremendamente non è per nulla assente. E allora la gente va in giro senza mascherina, ma non sarà multata, non è trasgressiva, però intanto girondolano, controllano anche le volanti, le gazzelle dei carabinieri per incutere timore, per intimidire, per suggestionare le persone che oramai sono stufe, persino di non guardare in faccia la realtà, la verità e non hanno più voglia di combattere per i propri diritti civili in modo anticostituzionale, negatici e in maniera arbitraria. Maniera arbitraria chi è il prossimo per giudicarci e decidere che io, te, un altro. Non possiamo vivere come ci va a genio. Ora, non tutte le persone sono dei geni come me, le persone vengono ammaestrate sin da piccole, indottrinate, scolarizzate, poi adesso ce l'abbandono per colpa della didattica a distanza e quindi saranno intraprese nuove istanze, questi ragazzi demotivati, scoraggiati, che passeranno il tempo a letto, a scoraggiare, ecco, vanno spronati, ecco, altrimenti vi sarà un impoverimento culturale ma anche economico. La forza motrice della società è il lavoro ma lavorare tutto il giorno rende Jack un triste figuro e ciò lo capì Stanley Kubrick e invece forse è meglio elucubrare, pensare, poetizzare, romanzare la vita e ricrearla non a solipsismo delle leggi decretateci, bensì a piacere del nostro rimembrare il passato, rielaborarlo, ricostruirci, rinnovarci e compiere un'opera di restauro collettiva che sputtani il vecchiume, il porcume, che svecchi insomma questa società di cariatidi che ci sta infliggendo delle colpe di cui noi dovremmo autoimputarci, ecco, di essere rei ma forse siamo dei re e non vogliamo più regalare nulla a chi ci sta sottraendo l'energia dinamica adrenalinica creativa e viva di quella libertà esuberante colorata pindarica sempre più aspersa, aspersa, disperata, dispersa, spenta giorno dopo giorno il terrorismo il terrorismo, un danno immane compiuto all'umanità che oramai considera normale uscire con le mascherine come se ci trovassimo in un cinecomic, in realtà le persone sono sempre mascherate la maschera sociale, le convenzioni dietro le quali si nascondono, si celano le notti dei loro imbrogli e sotterfugi, persone malandrine, in Italia niente cambia una società gattopardesca lo sostiene Pasolini, tutto cambia in realtà per rimanere immutato indelebile l'uomo italiano medio, crede che veramente la dignità si acquisti spaccandosi la schiena, rompendosi il culo e poi scopando come un satanato e andando a caccia, rimorchiando il sabato sera altrimenti sei uno sfigato, un disastrato, un disagiato e probabilmente affetto da chissà quale stato, non appartengo a questo stato che ti sta accecando sei mortificato, che tristezza Bologna è insanguinato, io uscirò con questo libro, venderà dieci copie, non me ne sbatte un cazzo continuerò a vivere a modo mio a modo di Paul Newman di un omonimo film o era Bruce Willis, no no e sarò proprio picchiato, deriso, umiliato proprio attaccato e gli altri si sveglieranno la mattina per svolgere un lavorettino per stare assieme alla mogliettina e consolarsi e di buoni smericattatori cosa passa per radio? e non guarderà mai la realtà a raggi X le radiazioni io sono un uomo esplosivo nucleare come la bomba atomica sono un uomo costernante veramente è proprio triste questo falotico che non ha nulla a cui pensare se non pontificare no 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 io non pontifico io destrutturato ristrutturai me stesso per abilitarmi al mio abitare in questo mondo come mi pare se non non vi piaccio non devo piacere a voi anche perché le vostre vite non mi appartengono quindi se volete credere alle grandi stronzate che vi vengono rifilate continuate a ricevere trombate e inculate perché qui avreste bisogno di una svegliata ma siete molto addormentati questo è quanto quindi basta con i ciarlatani basta con chi vuole decidere per gli altri chi debbano essere io sono il padrone del mio destino sono intelligente forse come un delfino e navigo sott'acqua per poi riemergere sono nessuno forse nettuno bisogna inforcare gli occhiali ecco estrarre la spada alla roccia e rielevarci tutti alla ricerca forse del santo sacro graal che probabilmente esiste e probabilmente Terry Gilliam non aveva tutti i torti col suo Brasil non soltanto la leggenda del re pescatore docet questa è una doccia fredda per tutti gli stronzi che ce l'hanno e ce l'avevano ce l'avranno sempre con me e ne inventeranno sempre una per screditarmi per addebitarmi qualche loro patente io ho la patente B adesso devo uscire da qui quindi Bologna insanguinata una mia rielaborazione personalissima della vita di questa città autolocata malfamata con le strade mal asfaltate la mia vita metaforicamente dissestata affamata chissà di cosa non dissetata di piaceri carnali questa vita metafisica questa vita questa vita rinsavita ancora in salita poi in discesa forse all'inferno ma stiamo vivendo nel purgatorio castigati timorati d'un dio potente e nella sua onnipotenza dovremmo credere sì dovremmo credere che si festeggia il Natale anche quando non lo si può festeggiare perché alle dieci c'è il coprifuoco siamo cascati nel film Fracchia contro Dracula oddio oddio arriva Dracula sono le 9.40 dobbiamo fare la corsa dobbiamo tornare a casa altrimenti saremo multati dobbiamo stare tutti muti ma io devo pagare il mutuo sì sì è la bolletta le utenze le utenze a voi utenti il mio interlocutore chi è? me stesso perché vengo capito solo da me dagli altri vengo incopreso respinto rifudiato sono un uomo che fa schifo non va cagato va sfanculato ma va benissimo è meglio perché il mio pensiero è libero e non si adagia ai dettami agli stilemi diciamo stilemi di cretini che ti vorrebbero plagiare e creare ricreare diciamo secondo il loro punto di vista che è sbagliato perché nella vita non hanno capito un cazzo io potrei stare qua potrei accendere la macchina e questa macchina potrebbe saltare in aria come quella di Sam Ace Rothstein in Casinò quindi la nostra vita ha appeso un filo a una chiave e non soltanto a una chiavata perché poi c'è la chiavata e poi insomma se rimani trombato ecco e poi se sei un degenerato che società è stata generata una società di persone silenti morbidamente atrofizzate sterilizzate nel mutismo nella felicità più apparente nel bonismo più faceto e nella stoltezza nella stoltezza dove bisogna apparire sempre forti sempre sicuri di sé altrimenti beh dobbiamo curare delle tue fragilità dobbiamo smuoverti però attenzione perché potremmo andare a coartare il tuo amor proprio urtare poi tu potresti ferirti nell'animo e quindi inferire ferire il prossimo potresti essere pericoloso ma andate a fare in culo Bologna è insanguinata un capolavoro è il mio libro e quindi è un capolavoro anche se fosse una stronzata una porcata un'emerita cazzata quindi un libro non meritevole di un bel niente è il mio e quindi me lo leggerò io me la suono me la canto adesso spingo qui clacson e clacsonando si va intonando tutti quanti avanti popolo con una lambretta questa è una musa lancia voglio lanciare una cosa 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 voglio lanciare vuoi spezzare una lancia a favore degli uomini slanciati degli uomini che non si sono indeboliti degli uomini non vigliacchi che se ne fregano di essere derisi redaruiti ammoniti se ne fottono se ne fottono continuano a vivere come cazzo vogliono perché gli altri sono deboli io sono un niciano quindi il debole è colui che pensa di essere forte viene apprezzato da persone deboli come lui non è capace neanche di vivere la sua solitudine ma non è capace neanche di vivere la socialità perché la socialità è intesa da lui come leccata di culo come essere ruffiano essere apprezzato stimato se l'altro mi dice bravo bravo ma cosa si chiama l'asilo nido io a un mio amico dico no stai facendo una cosa sbagliata sei una testa di cazzo questa è la critica costruttiva non distruttiva e non istruttiva fintamente pedagogica quindi Bologna insanguinata il mio schiaffo morale ha dei cafoni di Bologna che chissà volevano internarmi ammorbarmi deprimermi scoraggiarmi e diciamo ammazzarmi o indurmi a suicidarmi no no non funziona con me no perché qui funziona ancora questo qui forse non so qualche volta funziona no vediamo se funzionerà questa macchina e se potremmo svoltare anche perché qui la manovra sarà difficile la manovra governativa mi pare veramente come una macchina ecco un po' mi riscaldo facilmente quindi mi va qui il sangue al cervello non so se qui anche i vasi dilattatori dilattate questa la mente e aprite non le gambe aprite la vista respirate e prendete una boccata questa è una grande troiata questa è una grande troiata grazie